24 maggio, l'esercito passava. Guardate, questo è l'unico punto in cui mi posso vedere al mare perché avvicinarsi laggiù è entrare ad Alcatraz. Sono uscita presto alle sette e mezza, senza mascherina, chiavi di casa, cellulare e basta. This is my home, this is my rule. Perché c'è una differenza ad essere abitante di un posto, sapere di doverci stare fino alla fine dei propri giorni e l'essere invece un viandante che va in giro per gli altri quartieri della città. Allora, ieri pomeriggio ho passato, due ore passa, a cercare l'ordinanza del sindaco Bucci, relativa a questo obbligo delle mascherine all'aperto. Non l'ho trovata da nessuna parte, sono riuscita a trovare le emozioni di questa pseudo opposizione, vergognatevi opposizione a Bucci, vergognatevi, fate veramente schifo. Tutti, compresi quelli che fanno i compagnoni dell'EU, con il PD, il Bucci è di destra, il Bucci è dell'informazione politica del Toti e company. Non ho trovato l'ordinanza. Cioè, come qualunque multa che ti può essere data perché posteggi male un veicolo? E su quei pezzi di carta c'è sempre scritto l'infrazione è questa, ai sensi dell'articolo TOT, dell'ordinanza TOT, comma, eccetera. E magari c'è anche scritto quanto dovresti spendere in caso di sanzione, non solo, ma c'è anche scritto in caso di ricorso, perché il cittadino ha il diritto di fare il ricorso, rivolgersi tal tribunale, tal ufficio, eccetera, eccetera. Non ho trovato questa ordinanza. Oggi pomeriggio scriverò una mail, cercherò di contattare l'avvocato Patrucco, di cui trovate i video su YouTube, che per fortuna sta creando un team di avvocati a livello nazionale per rispondere proprio ai quesiti come il mio. Io lo faccio per me di contattare l'avvocato Patrucco, perché come cittadina voglio sapere qual è il numero dell'ordinanza che mi obbliga a mettere la mascherina all'aperto. L'avvocato Patrucco, che sa più cose di me, mi insegnerà, mi insegnerà se è possibile una cosa del genere, se non è possibile, dove andarla a cercare, se si può cercare, se non si può cercare. Per quello che ne so io, nella mia ignoranza, certo che deve essere pubblica una ordinanza. Ed è per questo che si sono tanto meravigliati due vigili quando gli ho fatto questa domanda. Loro non è che hanno fatto finta di non capire, no, loro proprio non hanno capito, perché non ci sono più i vigili come è stato mio fratello. È un fratello più grande, in pensione, che ha fatto il vigilo urbano e lo ha fatto anche in maniera umana, perché il culo lo faceva a quelli con le macchine grosse, a quelli con i soldi, non ai poveri. Allora, a questo punto bisogna che trovo questa ordinanza, perché non si può svegliare il 3 giugno mattina a Bucci e dirci, semplicemente facendo delle dichiarazioni alla stampa, da domani, oltre alla mascherina, dovete uscire tutti con il belino di fuori o la mussa di fuori, perché se anche decidesse questo il sindaco deve assolutamente pubblicare l'ordinanza, d'accordo? Quindi, Bucci, guarda che se io non trovo quell'ordinanza mi sento in dovere di denunciarti per abuso in atto d'ufficio. È vergognoso che l'unico documento che siano riusciti a trovare sia una dichiarazione al secolo XIX, Genova Today, io non so chi ci aveva davanti quando ha fatto questa dichiarazione alla stampa, e che è quella che poi pubblicherò nella descrizione di questo video. È vergognosa sta cosa, Bucci! Guarda che anche ai tempi del doge passava al bardo col tamburello, con il papè, con la carta, col papiro, scioglieva il papiro e poi ad alta voce diceva alla cittadinanza udite, udite, il doge ordina questo, questo e quest'altro, e se non lo fate saranno 30 frustate, 50 frustate dal decapitazione. Dov'è scritta sta roba, Bucci? Io sto osservando il servilismo, l'incredibile servilismo che hanno tutti i miei concittadini di ogni ordine, età e censo sociale. Nessuno, nessuno intorno a me si è fatta la domanda che mi sono fatta io, dov'è l'ordinanza? Dov'è scritto? Cosa rischio? Persino i nostri amici delle Canarie, Maurice San e il Greg, sanno che se non si mettono una mascherina sono 30.000 euro di multa in Spagna. Bene, io voglio saperlo a Genova. Cosa rischio? Quanto mi dai Bucci di multa? No, perché Bucci tu devi anche capire una cosa. Guarda la mia maglietta Bucci, la vedi? Ecco, io sono una praticante di Qigong e di Tai Chi. Il Qigong e il Tai Chi, brutto ignorante che non sei altro, sono tecniche di respirazione, ok? Anche quella è attività motoria. Se non sei al corrente di questo, prova a chiederlo al tuo amico Di Maio, il ministro degli esteri. Chissà se ha capito qualcosa della cultura cinese, quel coglione di un bibitaro? Bene, il Tai Chi e il Qigong servono a respirare e grazie alla respirazione riequilibrare l'energia, il Qigong e poter vivere meglio in salute senza ricorrere a medicinali. E a tal proposito, sindaco, te lo dico già, guarda che io purtroppo per alcuni problemi di salute c'è un medicinale che devo prendere tutti i giorni, la tibucina. Cioè io non mi posso permettere di mettere quella mascherina se non sotto il naso, se me la metto sopra sicuramente ho un collasso, d'accordo? Naturalmente tu caro Bucci, nel rilasciare la tua intervista ai giornalisti, ti sei ricordato di dire che però ai bambini sotto i sei anni no, che però se c'è gente che ha problemi respiratori no, e le eccezioni le hai fatte. Io voglio quell'ordinanza, è un mio diritto. Poi vediamo con gli avvocati. Non ho altro da dirti Bucci, se non questo. Ho capito il gioco che fai con quell'altro, con Toti. Toti sa di dover lasciare la carrega, anzi Toti doveva già lasciarla la sua carrega, la poltrona, perché noi queste domeniche qua, se non questa la successiva, dovevamo andare a votare il Consiglio regionale. Dovranno andare a votare il Consiglio regionale perché io non voterò più, mai più. Cosa succede? Che hanno sospeso l'elezione regionale e che tutte le informazioni che sono riuscite a raccogliere è che probabilmente ad autunno, forse, ma forse, li faranno votare. Peccato che l'autunno è lungo, va dal 21 di settembre al 21 di dicembre. È lunga sapere quando questa gente ligure andrà a votare per il Consiglio regionale. E quindi nel frattempo il Toti cosa fa? Lui fa il buono, quello che vuole aprire, quello che vuole permettere le cose alle persone. Poi in combutta con quell'altro il Bucci. Il Bucci cosa fa? Fa il cattivo. Il Toti così diventa più buono agli occhi della gente perché il Bucci è più cattivo. State facendo Starsky e Dutch? Cialtroni. Cialtroni. Criminali cialtroni. Non ho altro da dirvi che questo. Vedete di farmi trovare quella ordinanza. Perché funziona così nella realtà come la vedo io. Buona giornata a tutti.